Oh amiche e amici, caffettino, ho pranzato veloce velocino perché aspetto l'omino della legna. Ecco, preferisco mangiare e poi toglie il mio pensiero, chissà quando arriverà. È l'una e trenta, quindi è assaltato il mattino, lo porterà al pomeriggio, speriamo non al buio, poi muoio dal freddo. Siamo qua a voderci il sole, il vento ogni tanto si alza, ogni tanto si quieta. La brezza c'è, però il mio angolino è un angolino riparato, ho un insetto che è sibila qua, che è ronza, speriamo non mi pizzichi. Sto controllando i miei bulbi da fiore, sono lì, si sono un po' fermate le emissioni di getti nuovi. Nentre vedo due puntine, ha fatto un freddo, ma ha cotto i ciclamini, ancora non mi capacito. Allora, sono spetenata, sono stanca, lasciate stare, bello. Oh, che belle chiacchierate, che bello scambio di saluti già di prima mattina. E allora, bevo alla nostra salute di tutti. Allora, vi volevo parlare di questi due numeri di più maglia bebe, che io non l'avevo mai, 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 mai visto in giro. E sono rimasta fregata, no, fregata fino a... sì, in parte sì. Allora, perché? C'è scritto nuova, bello, non l'avevo mai visto, ho detto che bello. Poi è un numero uno, sono due numeri uno, no, un uno e un due, che riguardano due mesi. Io ho detto, come è possibile? Allora è un simestrale, no, è un bimestrale, però uno e un due. Uno e un uno, ma corrispondono a due mesi completamente lontani tra loro, tipo dicembre e gennaio. Non so se riuscite a vedere. Io non posso vedere cosa inquadro, eh. Quindi dicembre e gennaio, ed è un numero due. Quindi prima di gennaio abbiamo novembre e dicembre. Allora, numero uno. Bimestrale, quindi bimestrale, sì che adesso cambiano tutti i significati delle parole, non ci bruceranno i libri, eh. Li cambieranno, cambieranno il senso delle parole, non ci sarà bisogno di bruciare i libri, basterà a confondere le idee così. Eh, lo so. Allora, vedete qua? Allora, qui abbiamo bimestrale. Numero due, numero uno, agosto-settembre. Quindi più confusi di così, aneghessemo. Però, e poi cosa si nota anche? Che è? Poi sotto c'è scritto P.I. Partita IVA, no. Quindi riguarda il mese, il 3011 2020. E qui, prima edizione sarà? No, prima E, quindi la I. Prima I? Boh, non si sa la I perché cosa potrebbe essere? Capita a me, prima edizione. Allora, 21 luglio 2020, agosto-settembre. Vabbè, si saranno capiti loro. Comunque è un'edizione, sono edizioni di due anni fa. Ecco, diciamo anche quasi tre. Vabbè, pazienza. Si parla di bambini. E diciamo che nei bambini la moda è un po' come una volta molto più calma nel modificarsi. Però diciamo che ci sono delle proposte veramente carine. Ah, quando vi ho parlato della posta sulle riviste, no? Io mi ricordo le inserzioni pubblicitarie, le inserzioni che riguardavano eventi, vendite di cose. Ma queste su le riviste, i settimanali femminili. Capite a me. E io mi ricordo che c'erano delle inserzioni. Ma ero piccola, ero all'elementario. Io leggevo tutto, eh. Ah, dalla prima pagina e poi leggevo tutto quello che c'era da leggere. Perché ero sempre a leggere. E mi ricordo che c'erano queste inserzioni che riguardavano la vendita di abbigliamento per cambio guardaroba. Perché una volta le signore bene, le signorine bene, si completavano il guardaroba completo. Quindi il palto, il soprabito, l'impermeabile, il completo pantaloni, il tailleur, il vestitino da sera, il vestitino da pomeriggio, la borsetta così, la borsetta cosa. E poi, non è che tutto durante l'anno magari compravano qualcosina, ma avevano sempre tutto un guardaroba completo che doveva durare due o tre anni, diciamocelo. Che bella usanza, però, quello di avere le scarpe da acqua, le scarpe da passeggio, le scarpe da pomeriggio, le scarpe da sera. È una cosa meravigliosa, mi ha sempre affascinato quella cosa lì. E quindi le inserzioni. Ecco, dove si trovavano ad acquistare oggetti per acqua? Come si fa ancora adesso? Però mi faceva ridere all'epoca. Allora, quindi sono rimasta fregata perché non è corretto non far notare la cosa. Le due riviste sono confezionate, vengono vendute confezionate con il cellophane, tanto davanti quanto dietro c'è una copertina cartacea ammovibile che non fa leggere niente. E quindi va a te la pesca. Comunque in quella cosa lì era già carina, che non mi ricordo se riguarda uno, l'ho bruciata una, ho l'altra, sono uguali. Va bene. Comunque, questi due numeri al prezzo di uno. E quindi, come ve lo dico, 5,90 euro. Perché ormai costa tutto 5,90 euro. 5,90 euro, che poi in lire sarebbero tanti soldini, eh. No, spendevamo 10.000 lire per una rivista, eh, all'epoca, quando c'erano ancora le lire, all'inizio degli anni 2000. No, manca un po'. Anzi, io mi ricordo che spendevo 5.000 lire per Marie Claire, 5.000 e spiccioletti. E Gardenia costava sulle 5.000 lire. No, non spendevamo un patrimonio. Quando spendevo 7 euro era un grasso che colava, eh. Allora. Mmm, che buono. Oggi sono le ceneri. Ho fatto il fioretto, ho detto che fino a Pasqua non farò dolci. E non mangerò dolci. Per dolci intendo biscotti, ciambelloni, pastarelle, gelati. Però il caffè, beh, me deve tirare sul morale. E anche la pressione. Occio la pressione sempre troppo bassa. E quindi il caffè io lo prendo con lo zucchero. Eh, e prima. Siccome ho fatto un pranzo parco, molto parco. Perché il macco di fave che avevo considerato come pranzo era proprio scarso, eh. Erano 4 cucchiai. E siccome non l'ho fatto a mollare, l'ho fatta solo anti-epidire, mi ha reso poco. Meno male che ho fatto tanti friarielli. Ma era proprio parco. Poi pensando alle fatiche che dovrò fare dopo. Mi ha presa fame anche se non ce l'avevo. E quindi mi sono fatta due panini con il fico secco, tagliato col cortello. E ci ho messo dentro due mandorle. Quindi ho mangiato quattro mandorle. Due mandorle in un fico secco, due mandorle in quell'altro. Non lo ritengo un dolce. Se dico, me la canto, me la sono e me la canto. Però, ecco, sì, mi ha tirato su. C'è rimasto un po' di zucchero. C'ho il cucchiaino posato qua. Voi non lo vedete, ma il cucchiaino d'argento, eh. Ce ne abbiamo solo tre. Quattro mi sono stati regalati. Di Barminton. Allora, diciamo. È una bella occasione. La consiglio, sì, per noi che vogliamo sfogliare. Che non ci abbiamo voglia. Io tanto quello che mi scarico. O che acquisto i pattern, così. Poi me li stampo. C'è poco da fare. Il cartaccio lo pago uguale. Perché non mi trovo a seguire davanti a uno schermo. Poi io che sono sempre in giro. Che sono qua fuori. Che vado in giro in campagna. Che mi intrattengo a lavorare dove mi pare e mi piace. Adesso devo portare tutto l'armamentario. Ma siamo matti? No, no, no. Mi no. E allora? Sono contenta. L'ho consigliata anche a mia madre. Che adesso vivrà in città. Non più in periferia. E quindi potrà uscire da casa. Io non capisco perché. Da lì non è mai uscita. Sì che c'era il giardino. È una di quelle persone rimaste terrorizzate. Che non toccava le scatole dei corrieri fino al giorno dopo. Queste cose assurde qua. Io quando ho visto pulire le scatole. Ho detto. Ma la gente ha mai capito che la fecola di patate viene venduta in carta? E poi guardo quanto sono sporchi. Sono sempre stati sporchi. Non li lavano mai. Non sono lavati. I carrelli della spesa. I cestelli quelli rossi che si portano a carellino. Sono lerci sporchi proprio. Fanno schifo. Non ho mai trovato un supermercato con i carrelli puliti. C'è poco da fare. Quindi ci si pensa a queste cose. Vabbè. Comunque mi sono divertita. Ci sono rimasta male lì per lì. Perché c'è scritto nuova. Eh. Vedete a me. Nuova. Dico vabbè. Però. Eh infatti. Quando ho chiesto alla mia edicolante. Mi ho mandato la foto di questo. Volevo questa cosa qua. Ecco. Volevo questa. E mi ha detto. C'è scritto numero 20. E lei mi manda la foto di quello corrente. Ma veramente signora siamo già al numero 30. Ah. E ci sono rimasta male. Perché mi piace questo numero qua. Lo volevo regalare a Camilla. Sapete un po'. E poi mi piace questo golfino che c'è qua nella pubblicità. Va bene. Allora io adesso ve lo sfoglio. Perché. Se lo trovate in edicola. Se avete dei nipotini. Se siete come me che vi rompete le scatole. È vero. Ci abbiamo tanti bei tutorial. Però il tutorial devi avere una cosa lì da seguire. E devi avere la batteria. Deve essere acceso. Devi guardare. Io voglio sfogliare. Mi va benissimo il tutorial. Sto imparando un sacco di cose. Non sono nata saputa. Sono anche un ignorante. Cioè. Io tante tecniche non le ho mai approcciate. Tante costruzioni. Perché. O non mi interessa. Mi esprimo già con quello che so. O li trovo ostili. Loro. Le mie confronti. No. Io ne loro. Loro. Le mie confronti. Oppure. Non corrispondono al mio gusto. Insomma. Ma vabbè. Comunque. Mi piace imparare. Mi piace ascoltare. Mi piace mettermi lì. E poi dico. Ma va. No. Quando troppo. Che non. Dove la difficoltà. Non mi appassiona. Non me ce metto proprio. E allora. Mi diverto un po'. Comunque. Ho trovato delle cose molto carine. Molto. Molto. Carine. Guardate. Non è brutto sto maglione. Così. Con questa lana. Così. Moco. Questo brutto. E stesse. Ma un insetto. Un insettaccio. Invece qua mi piace già di più. Però ste maniche slargose. Lui mi piance. Anche il vestiti. La camicetta sotto. Quei calzonci. Così mi piance. Mi piace anche sta cosa qua. Uh. Mi ricorda una gonna. Una gonna termica. Avevo trovato. Dalle sorelle eramo. Oh. Se c'è qualcuno dei castelli romani. Che bello. Che parlo di cose che sappiamo. Allora. Lungo l'appia. L'appia non antica. Da Roma. Verso. Li castelli. Un po' prima. Di Castelgandor. Insomma. Ci sono un sacco di magazzini. Ci sono degli showroom. Di questi outlet. Ganzi. Insomma. Le sorelle Ramonda. Sono un punto di riferimento. Per i castellani. Poi c'è. Diffusione tessile. Che è un punto di riferimento. Per chi abita. Zona Pomezia. Ma poi ci vanno tutti. Ci andavamo anche noi. Ci ho preso delle cosine. Anche a mia nonna. Ci avevo trovato dei filati. Ci avevo trovato delle scarpe carine. Ci avevo trovato delle robe. Un vestito tutto di piume. Mi sono sdraiata per terra. Perché mia figlia aveva fatto delle scene. Ci ho trovato un sacco di cose carine. Di fusione tessile. Insomma. Mi stavo appropriando del territorio. Allora. Dalle sorelle Ramonda. Allora. Si trova del. È un outlet. Si trova dell'abbigliamento. All'epoca. Veramente carino. Avevo trovato una camicetta della Malboro. Azzurra. Un colore bellissimo. Quasi carta da zucchero. E in. In ortica. Mamma mia. Che bella. Poi avevo trovato una gonna. Che ce l'ho ancora. Devo andare dalla sarta. A farmela modificare. Perché è spettacolare. Sempre di Malboro. Quindi questo abbigliamento country sportivo. Non eccessivo. È bellissima. Con la gonna. È un tessuto scozzese. Asimmetrica. Davanti. Tende a essere. Un po' più lunga rispetto al dietro. Ha delle pants. E poi è a portafoglio. Con le frangette. È un tessuto caldo. Bello. Poi dei bei colori. Ho tre golf che ci abbino sempre. E adesso mi casca. Veramente. È bello. Quando la metto. E che fa. Pum. E mi cade per terra. Sono sette taglie di meno adesso. Però la voglio recuperare. Perché mi piace. La voglio mettere. E avevo trovato veramente delle cose belle. Delle magliette belle. Dei vestitini carini. Ma proprio carini. Oh. Che belle cose. Oh. Questa vita a Castella. Mi sembra veramente. Ad aver vissuto venti vite. Già. Oh. Che ridere. E vabbè. Niente. Non so perché vi ho parlato dell'Erabonda. Perché ci trovavo delle cose carine. Perché una volta mia figlia. La cinica pessimista proprio. Una la vede e dice. No. Ma cosa dici. Se vabbè. Perché non la conoscete. È una cinica mia figlia. È una pessimista. C'è un singhiozzo. Una pessimista che guai. Allora. Gli era venuta voglia di un paio di stivali. Questi tipo campero. Sapete quei tacconi un po' così. Scamosciati. Io non ho visti di quelli orendi. E ho detto. Camila. Io non. Io. Io non ti sovvenzionano. Una battaglia per quegli stivali. Fanno schifo. Comunque non li trovavamo. Allora. Siamo andati. Siamo andati nei grandi centri commerciali di Roma. Dei dintorni di Roma. Siamo andati a Roma Est. Dove mia figlia. Quando ho detto. Va bene. Ti ci accompagno. Mi ha fatto le foto. Mentre entravo. Perché era già aperto da qualche anno. Io non ci avevo mai messo piede. Io fuggo i centri commerciali. Mi stresso. Però poi. Quando ci sono dentro. Allora. Quella volta lì. Ci siamo entrati la mattina. La mia figlia mi ha fatto le foto in auto. E guidava la mamma. E le foto. Mentre stavo varcando. La soglia. Perché proprio. Ci siamo entrate la mattina. Alle dieci e mezza. Ci siamo uscite alla chiusura. Proprio. Ci siamo andate anche al cinema. Ci siamo intrattenute lì. A pranzo e cena. Abbiamo fatto tutti i negozi. Ma tutti eh. Bershka. Tutti. H&M. C'è ci. E ci. E ci. E le cartolerie. Le librerie. Tutto. E avevamo mangiato dappertutto. Quasi. Dappertutto no. Avevamo. Oh. Visto tutto. Ah. Ha detto. No. Bella. Adesso che ci siamo. Ci siamo divertite come delle matte. Poi basta. Ce l'ho riaccompagnata una volta. Ah. Quella volta lì sì. Perché. E comunque non abbiamo trovato gli stivali. Ce l'ho accompagnata una volta. Meno male. Perché chiudeva tardi. Uno di quei centri che chiudevano all'epoca erano i primi che chiudevano intorno alle 10 mi pare. Perché era stata chiamata da questi centri di collocamento interinali. E gli era stato fissato una. Pensate che che roba eh. Un appuntamento per la mattina dopo. In questo centro interinale. Per fare una. Per partecipare a una selezione. Per essere insomma un'assunzione. Per un punto vendita. Yamamai. Allora. L'elenco. Scarpe nere. Basse. Gonnellina nera. Camicetta bianca. Giacchetta nera. Camilla ma sei sicura per Yamamai? O non è che ti chiamano per qualche bar o ristorante? Perché. Ma che divisa è sta roba qua? Insomma non ci avevamo niente in casa a riguardo. Mia figlia era ancora molto. Cioè. E poi neanche comprare cose che lei non avrebbe messo. Cioè abbiamo dovuto spendere dei soldi. Perché. Se no. Cioè per fare questa. Non era un'audizione. Era una selezione. La prima. Ne ha fatte tre colloqui. Eh. Per quell'assunzione lì. Manco. Avesse dovuto. Non so. Essere assunta dalla Maison Chanel. Insomma stiamo partiti in tromba. Questa cosa ci è arrivata alle sette di sera. Rendetevi conto. È il mondo del lavoro al giorno d'oggi. E quindi siamo dicendo. Ah. Mia figlia subito. Ah. Non ci passa a lei. Non ci passa a lei. Prendi la mamma. Vai in bar. Romest. Siamo entrate. Spedite. Ho detto. Scarpe basse. Devono essere decenti. Che le buttiamo via. Quindi siamo andate. Abbiamo trovato un saldo. Una ballerina in pelle. Molto carina. Che l'ha messa quel giorno. E poi mai più. E molto carina. Nero. Ok. Fatto. Poi. Le calze. Anche lì. Le calze nere. Le calze chiare. Non mi ricordo come abbiamo preso il collant. Poi. La gonnina. Trovata. La giacchetta. Molto carina. Era una. Era in cotone. Una felpa. Molto carina. Con dei bottoni argentati. Sportiva ma carina. Che le disegnava la figura. Faceva effetto dettaglio. Senza esserlo. E abbiamo preso da un'altra parte. Fatto il pandan. Dall'altra parte ancora la camicetta bianca. Che ce l'ho io. La metto io. Mi piace da morire. Sapete quelle tagliate sotto il seno. Carina. Un bel collettino. Lo spacchettino avuto. Carina. Un bel cotone. Un bel popeli. È ancora. È buona. Ancora adesso. Quindi abbiamo preso tutto. Abbiamo fatto l'ultimo acquisto. Che stavano per chiudere. Ah. I miei figli. Ma è inutile prendersela. Cioè diventano. Il mondo. E la vita. Perdi solo delle grandi energie. E ciccia. Quella volta per gli stivali. Stessa. Stessa qua. Vi cambio la pagina. Almeno. Vedete. Vedete cose. Allora. Vediamo un papà. Ecco. Un babbo con i bambini. E quella volta degli stivali. Ah. Certo. Non li troveremo. Perché quando voglio una cosa io. Figurati. Sei la tua. E sta pippa. Sapete. Già partita quella pippa. Va bene. Intanto iniziamo. E quindi abbiamo fatto. Roma Est. Niente. Siamo andati. Quell'altro. Lì. Verso. Come caspita si chiama. Parco Leonardo. Niente. Niente. Non mi ricordo. Un giro per Roma. Niente. Sull'Appia. Ne abbiamo fatti diversi. Niente. Sapete cosa vuol dire. Partire la mattina. E tornare la sera. Per cercare un paio di stivali. Quindi abbiamo fatto. Lappia. Perché al nostro punto. Eravamo lì. Lappia. Ce l'abbiamo fatta tutta. Sino a San Giovanni. Ci sono un sacco di negozi di scarpe. Proprio carini. Siamo da un lato. C'erano. Da un lato e dall'altro. Dico. Facciamoci San Giovanni. Facciamoci Lappia. Certo. Non se le è fatte a piedi. Io invece me la sarei fatta volentieri a piedi. Niente. Siamo andate da. Scarponcino, peperoncino. Non mi ricordo. È un punto. Ci sono tre negozi. In giro per Roma. Tre o quattro. Non mi ricordo. Niente. Torniamo qua. Passiamo. Aspettate. Qualti è? Siamo andate all'outlet. Quello sulla pontina. Niente. Siamo andate. Aspettate. No. Che mica è finita. Siamo andate all'outlet. Quello a Valmontone. Niente. E lei voleva quegli stivali. In effetti è una specie di camperos. Sì. Niente. Siamo andati ad Albano. Ho detto. Senti. Siamo. L'abbiamo fatti tutti. Sì. Figurati. Non l'abbiamo trovati a Roma. Non l'abbiamo trovati. Vabbè. Non farle sciocco. Ci sono. Vabbè. L'abbiamo fatti tutte. Niente. È una guerra. Che non ci voleva venire. Poi trova il parcheggio. Mentre questa ti brontola nelle orecchie. Poi il parcheggio in pendenza ad Albano. Non so ne sono di quelli tosti. E quindi abbiamo fatto. Non mi ricordo quanti ce ne sono nel corso principale. Niente. Ho detto. Va senti. Ce n'è ancora uno al corso di sopra. Ma figuri. Sono stupido. Sono stanca. La vita di qui. La vita di là. Ma che mondo. Ma. Campade e stivali. Noi. Ti dici perché. Siamo andati di sopra. Stavano per chiudere. Erano le 19 e 20. Chiudevano le 19 e 30. E li vediamo già in vetrina. Ce n'erano di tre colori. Scamosciati come piacevano a lei. E già. Sapete che non mi guardava in faccia. Perché rideva sotto i baffi. Come dire. Cioè. Mamma. Perché bisogna buttare. Cioè. Mai. 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 Lasciarsi abbattere. Bisogna giocarsela fino alla fine. Quindi. Sì. Vabbè. Tra i deti. Figurati se c'è il numero. Sì. Li avrei tirato in testa. Giuro. Erano fuori. Era un assaldo. Tra l'altro. E. Quindi. Lei. Quale colore vuoi? Ma figurati. Ma. Oh santo. Dimmi. Quale colore voglio. Lo diciamo. Non facciamo perdere tempo alla gente. Insomma. Indica il colore. C'era il numero. Non mi andrà bene. Fino alla fine ha rotto le palle. Scusate. Se ho detto rotte. E. Insomma. Entriamo. Lo stivale andava. Adesso lo stivale ce l'ho io qua. Ecco. Non me lo metto. Perché non è proprio il mio genere. Questo è di mia figlia. Oh. Questo stivale. Vedete la calza di lana? Una calza bella. Ecco. Vedete. Questo è bello caldo. Perché sti giorni mi sarei messa. Queste. E anche le mutande da lana. D'Alfredo. Va bene. Questo per dirvi che. Che non bisogna mai dire. Figurati. Mai partire col piede sbagliato. Mai essere negato. Se non va. Non va. Ma. Ma perché? Perdere tutte quelle energie. Per dire. Non sarà mai. Non ci riuscirò. Non verrà. Non lo troverò. Ma figurati. Ma perché? Che è una. Cioè. Già si parte con una zavorra. Essere positivi. Non vuol dire essere. Essere fanfaro. Non vuol dire essere superficiali. Cioè. Avere un po' di fiducia. Pazienza. Se non si troverà un'altra soluzione. Insomma. Ah. Lì ci ha fatto una figura. La mamma. Cioè. L'unica volta. Però. Non vogliamo pensare. Vero. Come adesso. Mio fratello ha lavorato per tre mesi. In un. In un. Come si chiama. Uno showroom. Di mobili. Di arredamento. Di quelli super mega wow. Dove è una cucina. 50.000 euro. Che con 50.000 euro. Qua ci compriamo la casa. L'arredo. E. E poi si lascia anche un po' di soldi da parte. Perché così ti fai la spesa per dieci anni. Ecco. Quindi figuratevi. Fa tre mesi. Si è sbattuto. Gli ha venduto di queste e quella. Però fanno solo questi contratti. Di tre mesi in tre mesi. Con persone adulte. Cioè. Dove anche tu devi imparare. A capire la gestione. E quindi. Sono cose. E va bene. Il mondo del lavoro. Comunque mio fratello è spatria. Quindi. Meno male. Sono contenta. E va bene. Allora. Di cosa vi voglio parlare? Di queste due riviste. 23 minuti per dirvi cose così. Ma sì. Ma noi ci intratteniamo. Allora del caffè. Vi faccio compagnia. Mentre pulite. Vedi che bello. Quando mi dite queste cose. A me mi fate sentire. Proprio. Proprio. Bene. Allora. Abbiamo. Come sempre. Sono riviste sponsorizzate. Cioè. In qualche modo. Promuovono. Dei determinati filati. Questo ci aiuta. Perché. Io ad esempio. Ho una. Una rivista. Che mi ha regalato. Una mia amica allieva. Che riguarda il mandala. Ad uncinetto. Dove. Uno di questi mandala. È stato fatto. Con un filato. Bellissimo. Merino e seta. Che assomiglia a noro. Ma non ci sono. Non c'è. L'indicazione. Delle aziende. E quell'oggetto. In quel. Con quel motivo. È perfetto. Con quel filato. Ecco adesso. Che senso ha. Una rivista. Deve dare. Delle indicazioni. Poi. Se noi vogliamo. Svicolare. Se abbiamo. Delle altre opportunità. Se abbiamo. Dei filati simili. Se non ci piace. Quello. Ma ne vediamo uno. Che ci piace di più. Magari anche. Della stessa azienda. Saranno fatti nostri. No. Però. Quando si fa. Si promuove. Un capo. Bisogna dire. Come è stato fatto. Con che cosa. E queste riviste. Partono così. Vi dicono. Già. Che sono. Sponsorizzate. Da. Un po' di Katia. Vabbè. Comunque. Questo è un filato. Cablet. Che qualcuno chiama. Catenella. Ma i veri filati. Catenella. Hanno proprio una costa. In catenella. Poi ve lo farò vedere. Comunque. Vabbè. È un filato. Detto anche. Fantasia. Ormai. Comunque. Fa parte. Dei filati classici. Non è una torsione. Classica. Non è una torsione. È una. È un intreccio. Di fibre. Già torte. Quindi qua. Abbiamo. Esempi. Di filati. Vedete. Autoriganti. Le autoriganti. Sono quelle che. Hanno. Un colore. Che cambia. Ogni tot. E quando lo lavorate. Con la tensione giusta. E in certe dimensioni. Quindi per calzini. O cose. Comunque. Stabilite. Con una dimensione stabilita. Vi dicono già. Che motivo. Riuscirete a creare. E quindi qua abbiamo le righe. E poi abbiamo questo effetto. Zuzuzu. Non so come chiamarvelo. Zuzuzu. Va bene. E qua abbiamo un altro. Zuzuzu. Che è lo stesso. Zuzuzu. Ah sì. E vabbè. E qui. Sweet blanket. Zuzuzu. E va bene. Qui abbiamo invece. Ecco. Sempre autoriganti. Però più melangiati. Meno netti. Meno definiti. Rispetto a qua. Questo yoga. Lo devo dire a mia sorella. E cari. Sono filati che. Tendono a diventare elastici. Con la lavorazione. Sono interessanti. Tengono anche bene. Sono leggeri. Perché riprendono il loro volume. Quindi vi permettono di lavorare. Con calbri. Non piccolissimi. Certo. Sempre proporzionali. Al loro spessore. E di avere un capo. Leggero. Le lollo. Ce ne hanno. Di queste cose qua. E questo tipo di intreccio. Come lo yoga. Lo abbiamo. Come si chiama. Quel filato. Che è andato a ruba subito. Nei filati estivi. Lo trovate. Che è un misto. Viscosa. E cotone. Mi pare. Ecco. Quel tipo di intreccio lì. E come questo. Va bene. Qui abbiamo cosine per bambini. Ovviamente. Una cosa carina. Che abbiamo. Uh. Uh. Mi cade. Mi cade. Mi cade. Mi cado shantung. È una battuta di casa. Il mi cado shantung. Che bella storia. Allora. Abbiamo. Delle schede punti. Che possiamo impiegare. Come ci pare. Questo viene. È utilizzato. In una copertina. Lo trovo molto carino. Perché. La copertina. Che è un capo. Tra i più. Semplici da fare. No. Che non richiede cose. Poi. Si va sempre in crisi. Oddio. Devo fare una copertina da bebè. Come la faccio. Non abbiamo mai idee. Spesso. La maggior parte di noi. Non ha idee. Invece insomma. Bisognerebbe farsela. Perché poi. Vabbè. Anche se non abbiamo più figli piccoli. Però. Abbiamo le amiche. I vicini di casa. Insomma. Che non capita. Magari ve la commissionano. Insomma. Dobbiamo avere un po' di idee pronte. Va bene. Qua non vi posso far vedere i punti. Eccola qua. La copertina. Eccola qua. Com'è carina. Allora. Questo. Non so con quale filato. L'hanno creata. Questa cosa. Comunque. Il baby. E il baby scuola. È uno spessore bello per copertine. È un filato pesante. Nonostante il suo volume. Grazie all'io. C'è il grazie. Insomma. È bello. C'è una percentuale di alpaca. È una bella merino. Sa un tatto strano. Io ci ho fatto un golf. Mi sono divertita un sacco con la baby scuola. E come ha dimostrato l'orella. C'è il giallo e il celeste. E non mi ricordo più. Bella. Con queste stelle a grana di riso. Lei è fatta un bordo a grana di riso. Ecco che qualsiasi colore. È buono. Ed è carina. Diciamo con i filati. Vediamo un po' con cosa. Ah vabbè. Anche con il cot. Con il macco. Che spesso mi sbaglio. Voglio dire macco. Lo me ne sono accorta in qualche vocale. Voglio dire macco e dico cotton. Il cotton è meraviglioso a pelle. Provatelo. Se dovete fare delle cosine per neonati. È bellissimo da lavorarsi. Cercate di non strizzettarlo. E non lavoratelo troppo rasco. Eccolo qua. Una copertina. Ma le fettucce. Le fettucce per le copertine sono una meraviglia. Allora. Abbiamo i capi. Quindi ci propongono capi colorati. Monocromati. Guardate che bel cicciolone che abbiamo qua. Ecco. Il confetto. L'onda. L'onda nei bambini che sono già abbastanza... Ecco. Riprendeteli, sedete. Non fate dei giri, del giro manico. Fate un raglan o la spalla bassa. Sono molto più pratici per i bambini. Per agevolare i loro movimenti. Il caos. Il caos è proprio carino. Ma che vi importa? Non vi deve durare 30 anni. I bambini nel primo anno di vita cambiano. Un bambino di sei mesi che vive l'inverno a sei mesi. E sarà molto diverso quando lo vivrà a un anno, a un anno e mezzo. E non glielo rimettete quel capo lì. C'è poco da fare. Quindi che vi importa? Lavatelo comunque bene. Quanto dura dura. Amen. Ecco. Però divertitevi. Lo scozia 1, lo scozia 2, il confetto, il queen insieme, lo raddoppiate, lo triplicate, lo lavorate con lo scozia. Insomma avete imparato che si mescola. La cosa buona è fare i campioni e lavarli se non volete avere brutte sorprese. Le brutte sorprese sono date anche dalle nostre considerazioni un po' così riguardo alle tensioni. Facciamo i punti che dobbiamo sviluppare e vediamo se al lavaggio ci piace o meno. O se dobbiamo alzarlo e abbassare il nostro calibro. Mammoni belli eh. Sono carini i bambini vestiti a colorati. Allora. Lo scaldacuore. Il golfino. Questo non so se è fatto con l'uncinetto. Comunque tante cose le possiamo fare anche ad ago. Il vestitino bicolore. Ecco. E lo scozia. Lo scozia 2 lui è carino. Se volete fare una cosa delicata usate lo scozia 1. È delizioso. Delizioso. Vabbè. Anche se dobbiamo usare i feri del 2. Ma quanto ci vorrà mai a fare un capo per bambini? Noi ne facciamo 50. Ne facciamo 25. E ci stiamo lo stesso. Insomma facciamo una cosa. Bella. Questo è un filato simile. Il bouclé. Li abbiamo trovati. Ce ne abbiamo ancora un sacco dalle lollo. Considerateli ad esempio per fare delle righe a rilievo. Insieme ad altri filati che non sono così mossi. Sono divertenti. Il sacco nanna. Avete visto la pellicetta? Se voi lavorate la pellicetta di lana carina, leggera, con lo scozia in tinta o l'onda o il confetto o lo scozia 2 o lo scozia 1, vi viene un effetto pellicetta anche senza usare le pellicette quelle spesse. Lui è carino con i bottoncini così. Volete dei bottoncini di legno carini? Se li hanno ancora da Tiger, fateci un salto. Hanno delle confezioni mi pare da 8 in due dimensioni. Compratevene un po' e metteteveli da parte. Hanno le scrittine sopra incise. Sono deliziosi. Ecco qua i golfini. Allora, se tutto questo girobobolo noi non riusciamo a farlo a intarsio, quindi qui usiamo un filato, qui cambiamo filato, qui riusiamo questo filato ma senza il trasporto dietro. Usiamo le farfalline di filato, un gomitolo, 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 tanto per spiegarvelo semplice. Lo ricambiamo sopra, lo ricambiamo sopra, c'è poco da fare, non dobbiamo impazzire. Se si vede un po' la trasparenza sotto non succede niente. Cosine carine, semplici, carino il coordinato. Comunque ricordo che le sciarpe sono belle ma i bambini non sono pratiche perché se le tolgono, se le tirano, ci inciampano sopra, le perdono. Quando serve uno scaldacollo, uno scaldacollo doppio, in modo che possiate evitare di uscire con scaldacollo e berretti e gli tirate su lo scaldacollo o le tirate su, che sono belle anche le bambine, fate una cagul, quindi che è un cammino, un tubo bello lungo che lo piegate in due e l'occorrenza, gli coprete la testa, stanno bene e non perdono niente. A parte che i bambini riescono a perdere da qualunque. Sono belli vestiti così i bambini. Qua abbiamo anche i pupazzetti, carino, con l'avanzino, gli fate il pupazzetto. E poi nel baule dei ricordi potete mettere il suo pupazzetto insieme al giacchino uguale. Ma quanto sono carini e sono veramente semplici, senza neanche gli scalfi, quasi verso dritti. Quindi feri dritti, feri circolari, fate un po' come volete ma sono graziosi. Ecco il capottino. Allora, le pellicette, a volte, anche le bucchie, sembrano molto secche. E a volte lo sono, non è male, sono comunque in grado di tenere caldo. Quando facciamo i cappottini così ai bambini, l'interno del cappuccio lo foderiamo. Lo foderiamo con del panno, lo foderiamo con del jersey, foderiamolo. E quindi diventa antivento, almeno un poco, non con la fodera lucida, e non con l'acetato, non con le fodere di nylon, manco da seta. Poi se lo volete fare chic, fatelo anche con il raso. Ma se lo volete tenere al caldo, fate una fodera adeguata. E anche magari il pezzettino sopra, come si usava a fare, la parte sopra, davanti e dietro, si può foderare. Foderate intorno al polso, che può infastidire. Ma se avete delle lane naturali un po' secche, usatele, che fanno bene anche ai bambini. L'olfino, bambolina, insomma. E il gilet, scamiciato, scamiciato o gilet a fare il maschietto. Ecco, quindi abbiamo cose. Allora, qui abbiamo le spiegazioni, ma abbiamo altri capi. Il secondo vi faccio un altro video, eh. Senza parlare dei fatti miei, giuro. Allora, guardate che bell'esempio anche. Questo io lo userò come esempio per la Federica di casa, che se non vede non capisce. Voi potete fare il campioncino, glielo disegnate. No, deve vederlo. Mica gli sto a dire che è per bambino, lo copro. Questo lo possiamo fare con la finta costa inglese o con la mezza costa inglese. Adesso sono in fissa. E mi piace veramente molto il collo stile bomber. E lo farò vedere a Camilla, ma Camilla voleva il collo quello che rimane alto. Però questo è il collo del bomber. Quindi se lo vogliamo più a bomber, cosa dobbiamo fare? Accentuare il volume. Perché il bomber è panciuto, è gonfio dietro e gonfio davanti. Eliminiamo il volume, ecco fatto. Questo è un buon modo anche per consumare dei monocromatici e di abbinarli a dei tinti in stampa o comunque degli sfumati che li troviamo. Anche dalle lollo ce ne abbiamo ancora un paio, mi sa, tra quelli caldi. Perché c'è poco da fare. E inizierà anche la primavera a fine mese. Mettetevi in camicetta, vai, venite qua. Se c'è caldo, come oggi. Ecco qui, il body. Ma com'è carino. Ma non è carino. E l'effetto un po' bucle, un po' frisee. Guarda che carino. Ricorda un po' il palio di siena. Però è carino, dai, non è male. Possiamo fare la gonnino al pantaloncino dove gestiamo meglio tutti e due i colori senza simmetrie e diventa carino. Carino. Guardate. E gli è bello, lui. Oh! Fare questi tubi con un taglio. Un taglio. Che diventa poi scaldacollo col cappuccetto. Poi guardate che ci vuole a farlo divertente con due pompon. Il motivo della stella che si replica dal giacchino al golfino. Insomma, li trovo carini anche per gli adulti. Il babbo col golfino. La mamma, la figlia, il figlio, il papà, il nonno. Tutti con lo stesso golfino. E viene voglia di vestirsi uguali. Ditemi un po' in quanti l'abbiamo fatto di metterci le stesse cose. Allora, io mi ricordo Camilla andava alla scuola materna. No, all'elementare. Prima, prima. Alla upim. Cioè, avevamo ancora la upim. Avevo trovato quegli impermeabili incerate. Quindi, di plastica, ma spessi. Lunghi. Oh! Lunghi, proprio lunghi. Lunghi alla caviglia, quasi. Col cappuccio. Le culisse. I rinforzi dalla culisse. In modo da non lacerare. Ma mi è durato... Sapete com'è andata male? È andato sulla stufa. Non so come mai... Sono bruciati sulla stufa. Sono volati sulla stufa un giorno. Non lo so cosa è successo. Comunque, si sono bruciati. Il mio si è bruciato. Il suo l'avevo salvato. E... Con il cappuccio, con la culisse. Quindi, modellabile. Le tasche. Le tasche quelle con gli automatici. Ma che bello. Ma anni mi sono durati. Tutti ho fiorellini. Era il fondo nocciola. E poi c'erano i fiorellini rosa, azzurri, vari... Ma la mamma e la figlia uguali. Era contenta. I figli sono contenti. Quando vedono i genitori. Che hanno le stesse cose dei genitori. In realtà sarebbe i genitori che si mettono. Se vesto come i figlioli. Ma è uguale. Questi mi piacciono. Qui lo stesso è semplice. Carino. La pellicetta. Lavorata fitta. Ecco che può dare... Ecco. Guardate che bello. Colfino della mamma. Sotto della zia. Di chi è. Semplicino. Bottoncini di legno. Quelli piatti. Ecco fatto. Che ci troviamo a giocare. Ma guardate che carini questi alberelli. Io questi li farei. E i bastoncini di... Di cannella. Come tronco. Ma che carini. Dico sempre le faccio queste cose. Poi arriva Natale. C'ho da farne mille altre. Mi dimentico. Oh non ce lo ho. E quindi abbiamo dato. No vabbè ve lo faccio vedere veloce. Dai sì. Siamo a 39 minuti. Vuoi ci vedo. Avrei dovuto capirlo. Perché questo bambino è più piccolo rispetto a un giornale dove l'avevo già beccato. Non mi ricordo dove. Ma sì è bello quegli occhi azzurri. Sei una bambina. Anche loro che sei sei. Quindi abbiamo di nuovo copertine. Gile. Abbiamo. Cosa cambia tra pensare all'inverno e pensare alla primavera utilizzando la lana? Perché serve la lana. Non è la stagione che decide. Ecco scattato. Ci si veste di cotone. E sono le temperature. Noi dobbiamo andare dietro alle temperature. C'è poco da fare. Non è perché a primavera ci si mettono quattro cose di cotone e si crepa dal caldo. Abbiamo un peso stratosferico addosso. Iniziamo ad avere cose magari più leggere. Ma sono le temperature. Come ci si veste in inverno con quella temperatura lì? Adesso non ce l'ho il piumino addosso. Perché fa un caldo becco al sole. Sono riparata dal vento. Ma se capita una giornata gelida e siamo al 15 di aprile ma mi metto di cotone guardiamo alle temperature e quindi è bello in primavera avere colori che ci ricordano il mutare delle stagioni, l'arrivo dei fiori. Perché i fiori qua ce li abbiamo più d'inverno fra un po' che d'estate. E quindi scegliamo i colori. In autunno glielo facciamo ruggine, in primavera un verde acido, un celeste, un ceveste col marrone glielo possiamo fare anche in autunno che è bellissimo. Ecco la rana. Non vogliamo lavorare a intarsio? Lo ricamiamo. Filati, sfumati, stonalizzati. Guardate che belli con queste coste che possono essere coste ritorte, mezza costa inglese, finta costa inglese. Come ci pare? Costa normale. Costa atlantica. Ma quanto c'è costa? La costa c'è costata, c'è costata un sacco di vite. Allora, qui abbiamo un filato particolare. È un filato spazzolato, anche braced, se non lo vedete. Quel peletto che vedete è un filato tubolare. È un filato tubolare, tinto in stampa ad acquerello, con effetto acquerellato. E tutta questa pelurietta che esce fuori è leggermente spazzolata, ma può anche dipendere dalla presenza di moer o di alpaca. Riusciamo ad avere dell'effetto moer o di alpaca pelosa baby anche da filati che non contengono questo genere di fibra, ma che vengono spazzolati una volta eseguiti. Ecco, quel peletto dolce che si alza è dato dalla spazzolatura. E noi abbiamo un filato morbido, vellottato e abbiamo una lana senza fame e senza lode. Amore, lui è bellissimo, è bellissimo. Lo devo fare a mia nipote. Quella grande. Alla psicologa. Allora, vediamo un po' che esatto ci presentano qui. Ecco qui. Questo che sappiamo già essere del luglio 2020 non lo guardiamo più così impara. Però la cosa carina è che, ad esempio, avete mai fatto caso, no? Ci piace un arretrato, lo mandiamo a prendere e ci costa quattro volte fra un po' quello che lo paghiamo da fresco in edicola. Dico, ma se te lo tolgo da lì, a te non te conviene, perché me lo fai pagare di più? Una volta era così. C'erano sì le spese di spedizione, ma i numeri di arretrati costavano il doppio rispetto al prezzo di copertina. Io quella politica lì non l'ho mai capita. E tientelo allora il tuo arretrato. Invece, in questo caso, abbiamo due arretrati. Assolutamente di gusto contemporaneo, le cose proposte. Alla prezzo di uno, quindi il 50% non abbiamo le spese di spedizione. Eh, che furbata, è andata bene stavolta, poteva andare peggio. Quindi abbiamo le schede punti di quelli che poi troveremo nei capi proposti. Aspettate che se le cazzo il giornale, tanto è mio. Oh, guardatelo qua. Eh, guardate che carino questo scollo. Questo è un golfino che nasce dalla manica. Ma le babuce di veluto, di velur, quel che l'è, della cuffietta. Allora, un capo così lo possiamo realizzare. Allora, io parlo delle lollo perché ormai c'è un magazzino di sopra. Ma sono felice, voi non avete idea. E noi abbiamo due bambine. Noi siamo 800, siamo 7 fratelli. Quindi pensate, cognati, controcognati, nipoti, dei nipoti. Già sono arrivate le pro-nipoti, eh. Io ho 8 nipoti, ho 7. Quando dice no di nipoti non ci capisco più niente perché conto anche mia figlia. E le amiche delle amiche delle amiche, quindi produrre bisogna. Mia figlia stanotte a mezzanotte e mezza mi chiedeva una consulenza tecnica sull'uso di un filato perché si inizia un capo. Poi lo dirà lei, lo farà vedere lei. E lo va iniziare subito stanotte. Poi dice mamma è matta, ma che figlia, eh. Quindi lei viene e fa la spesa, capite a casa. Un golfino così delicato, guardate quanto è semplice, quanto è carino, ma come è bello lo scollo semplice. Non c'è niente questo scollo. Guardate com'è bella questa bimba con questo grigio morbido. I grigi sono carini, non sono tristi. Se il filato quello supporta manifesta bene il colore. E quindi questo qua lo possiamo fare con lo scozia 1. In primavera saranno utili. E considerate di avere sempre dei capi in esterno con colori allegri, in lana, in buona lana, o in lana e seta, o in lana e cotone, o in alpaca e seta, alpaca e cotone. Perché? Perché basta mettere, avere una t-shirt sotto in cotone nel momento in cui fa caldo, ma poi è la fibra naturale di origine animale, oltre alla canapa, eh. La canapa ha delle caratteristiche meravigliose da tenere in considerazione. Quindi dobbiamo sempre avere, in tutte le stagioni, un capo in lana, dello spessore necessario alle possibili temperature. Scozia 1, Queen anche. Allora, non vi posso far vedere le spiegazioni. Qui abbiamo questo bel... Guardate quanto è semplice, ma che ce vuole? Qui uno scalfo semplice e la manica non è altro che un cono quasi. No, sì, un cono, come si dice. Un trapezio. Ma anche un rettangolo, succede niente. Ecco. Mio fratello, queste cose qua, le cucce, che è una roba meravigliosa, è preciso, fa quei punti piccolini. Allora, vediamo un po'. Altro completino carino. I lilla sono belli, guardate che bello. Quanto è carino. Ecco, filati sottili, dalle lollo le troviamo, eh. Carini. Lo Scozia lo dobbiamo sempre tenere presente. Avete visto le chicche stamattina? Eh, avete visto che belle chicche? Allora, vediamo qua. Avanzi. Ma, vieni un capo così. Avanzi anche di generi diversi. In fondo metterei del lino e sopra il cotton. E il sotto fa l'effetto pizzo. E quindi, eh, ve la gestite male con, con gli aumenti. Va bene. Cambiate i calibri. Alzate il calibro del ferro. Alzate leggermente lo spessore, man mano. E nella balza potete anche lavorare con un calibro proprio, completamente diverso. Ed ecco che avete la forma dell'abitino. Avanzi. Gestire bene il colore. Ecco fatto che l'avanzo diventa più che nobile. Semplice, semplice, semplice. Ma guardate, io mi sono innamorata di questo pagliaccetto. Guardate le dimensioni. Cosa cambia nei buoni progetti? Le proporzioni e la distribuzione del colore. Quando è monocromatico, le proporzioni. Il design. Guardate com'è carino, pancioso. Questo lo possiamo fare. Lo vogliamo fuffoso, non soffice. Delicato al tatto, quasi setoso. Il cotton. Abbiamo anche, c'è un cotone sottile che non ha grandi, ormai sta andando esaurendosi, quindi ha quei colori lì. Però abbiamo un blu e un rosso molto carini. È un sottile, il Tommy mi pare si chiami. Tommy? Mi ricordo bene. Quindi andiamo a vedere. Perché questo capo è romantico in questo modo, ma ecco. Impariamo a gestirci bene i filati. Nelle fettucce sono carini. Ecco, sono proprio carini. Oh, la bougainville. Io lo trovo delizioso questo numero, perché aiuta veramente a guardare i filati. Guardate che bello fare un coordinato. Quindi, il monocromatico che prende più o meno le tonalità presenti. Il chiaro ce l'abbiamo. Il rosa più o meno c'è. Ecco, ho fatto un bel twinset maschile e femminile. Perché è bello sia le bambine che i maschietti questo. Proprio carino. E poi per gli adulti. Alla mamma. Alla zia. Alla nonna. Vieni a nonna. Guardate un po' che bella questa camicetta in crespa. Bella tesoro. Amore. Quanti boccini ti diamo a te del naso? Tanti boccini a queste guanche. E il mentino. Mamma mia che bella. Guardate com'è carino. Scozia 1. Scozia 1. E Queen. Non lavorate mollo. Una volta ti diamo la colpa ai filati. Poi siamo noi che vogliamo lavorare con i calibri alti e filati sottili. Mezza costa inglese. Finta costa inglese. Costa inglese. Costa 1. 1. Quel che costa costa. Noi applichiamoci. Guardate. Ma guardate come sono carini. Ma guardate che carino. Un gilet semplice semplice. E' carino che fa l'effetto manica. Quindi in questo caso si può andare su dritti e poi cucire il bordo. O fare qualche piccolo aumento poco alla volta. Quindi montiamo due maglie laterali. Poi ne aggiungiamo una. Poi una. E chi ci fa questo effetto un po' stondato. Di accenno di manica. Ecco. Facciamo la spalla. Se ci riesce. Con i ferri accorciati. Ed ecco. E mettiamo un bordino. Lo cuciamo anche dopo. Non è difficile cucirlo. Anche a brecchio. Qui abbiamo un sacco nanna. Che è molto carino. A me tutto sto girobobolo non mi piace in mezzo. Non mi fa impressione. Quindi lo farei o tutto col girobobolo. Che interessante. Questo torcion con il pieno dentro. O farei semplicemente quello che vedete dai lati. E niente in mezzo. In mezzo le iniziali di un cartiglio. Ecco qua. Le asimmetrie negli adulti non mi piacciono. Nei bambini queste asimmetrie quasi. Che è carino. Sia sopra al vestitino. Guardate che è carino. Sopra al vestitino. Questo. A righe. Se facciamo il vestitino monocromatico. Insomma ce la possiamo gestrare. Questo sopra al golfino. Magari lo facciamo a metà. Perché sta diagonale con le righe. Mi fa male agli occhi. Comunque. Allora. Questo è carino. Questo punto assomiglia. A quello che ho utilizzato. Per fare il campione. Con il momi. Per il momi grigio. Per Camilla. Era da un mani di fata. Che avevo preso quel punto. Questo punto qua. Provatelo con i calibri più alti. E filati più. E filati tipo il momi. Tipo il gheo. Se comprate il giornale. Provate. Qui abbiamo. Un effetto i cord. Che in realtà. I cord. Non è. E guardate che è delizioso. Se vogliamo sbatterci quelle corde. Facciamo le corde. Altrimenti facciamo un bel legaccio. E non ci. E ci passa la paura. Altro bel. Cos'è? Un body. Scaldacuori. E culotta. Ah ecco. Le culotte. Io ce le avevo le culotte. Le avevo anche ereditate e fatte a mano. Le culotte. In nylon. Perché sempre. Il nylon sembrava alla fine del momento. E nylon igienico. Non so se l'avete mai sentito dire. Il nylon igienico. Dalla mamma. Dalla. Sì. Dalla mamma del mio vicino di casa. Ecco. Guardate che carina. La copertina. Righine. Semplice riga e legaccio. Con una bella cornice. A coste 2.2. Perfetta. Come sono belli i colori. E poi potremo usare un colore monocromatico. In contrasto. Un colore che cambia. Che carino. E' delizioso. Ecco. In previsione di nascite. Se frequentiamo mercatini. O ebay. Acquistare. Dei bauli. Delle vecchie. Baligie. Che poi igienizziamo noi. Le facciamo tutte. Con la bella carta di Firenze. Oppure con della tapezzeria. Perché no. E consegniamo. Un inizio di corredino. Ecco. Guardate. Che bellini questi capi. Il completino. I bottoncini. Che ho trovato al mercato di Genova. Ecco. Altre righe. Quindi questo. Sia con filati di lana. In lana. O misto lana. Quindi in lana e cotone. Lana e seta. Questi completini qua. Poi sono molto carini. Avete visto? I filati nuovi. Ecco. Delle lollo. Ecco qua. Col cotone morbido. Guardate quanto è carino. Questo effetto a quadro. La costina. La ricamiamo. Eh. Questa. Noi facciamo solo le righe orizzontali. E poi il sopra. Con santa buona pazienza. Ce l'andiamo a ricamare. Ecco. Questi sono bei cappi. Anche per il babbo. Per il fratellone. Per il nonno. Per la mamma. Eccolo qua. Guardate che carino. Perché la mamma non se lo può fare. Eh. Non ce lo possiamo fare anche noi. Uno scamiciatino così. Ma certo che sì. E le bimbe sono felici. Soprattutto le bimbe di tre anni. Sono felici quando le mamme si vestono come loro. E loro si possono vestire come le mamme. E come le nonne. Oh, il macaron. Quando ho aperto. Com'è che si chiama? Quel negozio meraviglioso. A Roma. Mamma mia. Quello francese. Non mi viene in mente come si chiama. Famoso per i macaron. Che sapete che è un'invenzione nostra italiana. Il macaron. E Camilla che lavorava in via Frattina. Allora all'inizio c'era. Come si dice. Il percorso segnato fuori. C'erano le code di 20-30 persone. Oddio. Non mi viene in mente come si chiama. La confezione ce l'ho. Insomma. Mi è venuta con tutta la scatolina. Da gioielleria. Tutta ticiccio. Cioccio. E me l'ha portata a casa. Con i macaron. Che buono. Io poi. Lei ama gli spumini. A me piace tutto ciò che è dolce. Figuratevi. Poi quello che è chic. Ci siamo andate insieme poi. Un giorno. Un mio compleanno. Che mia figlia mi ha portato in giro. Fai quello che vuoi. E siamo andate anche lì. Mi ha regalato i macaron. Sceltili per lì. Ecco. Volevamo anche andare da Bonci. Era ancora abbastanza glutinosa. Ma. Ma c'era la coda. Quindi abbiamo rinunciato alla pizza di Bonci. 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 Bon. Basta. Ecco. Ve l'ho raccontato. Spero di avervi ingolosito. Non fatevelo scappare. Perché. Poi. Riusciamo a modificare. A volte sono le dimensioni. Ti dice. Ma ti serve qualcosa. Sì. A volte serve. Quell'esempio. Una ruche. Ma guardate. Ma guardate che carini. L'uso del colore. E. Mi piace quel filato sfumato. Ma come lo uso. Ecco. Avanzini. Di colori. Di filati monocromatici. Che possono andare. Ecco. Che completiamo. Va bene. Siete contente. Ciao.